Il mondo del gossip è stato scosso da notizie riguardanti la coppia formata da Serena e Nardu e Pago, al secolo pacifico settembre. Dopo un periodo di riavvicinamento avvenuto nel 2023, sembra che la loro storia d'amore stia attraversando un momento di crisi. I fan hanno notato l'assenza di foto e post condivisi sui social, segnali inequivocabili di problemi. Serena ha rilasciato dichiarazioni ambigue che hanno alimentato i dubbi sulla loro relazione. Parlando di un bisogno di metabolizzare ciò che sta accadendo nella sua vita privata, ha lasciato intendere che ci siano questioni irrisolte. Questo linguaggio vago ha fatto scattare l'allarme tra i fan, che si sono affrettati a commentare i suoi post con domande sullo stato della loro relazione. Il silenzio di Pago è diventato assordante. Da settimane il cantante non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali e non ha condiviso momenti con Serena. Questo comportamento ha alimentato ulteriormente le speculazioni, portando a ipotizzare che la crisi possa essere reale. Tuttavia, c'è chi suggerisce che la coppia stia semplicemente giocando con il gossip per aumentare la propria visibilità. Attualmente l'unica certezza è che entrambi i protagonisti stanno cercando di affrontare questa situazione in modi diversi. Mentre Serena si dedica un nuovo progetto professionale top secret, Pago rimane in silenzio, lasciando i fan in attesa di chiarimenti. La domanda che molti si pongono è torneranno insieme o questa è la fine di una storia d'amore che ha appassionato tanti? Solo il tempo potrà dare risposte definitive, ma nel frattempo il gossip continua a imperversare, alimentato dall'incendio.